Book 2 Dove sono le stoviglie? Dove sono le stoviglie? Dove sono le posate? Hai un apriscatole? Hai un apribottiglie? Hai un cavatappi? Fai bollire la zuppa in quella pentola? Cuoci il pesce in quella padella? Cuoci la verdura su quella griglia? Io preparo la tavola. Ecco i coltelli, le forchette e i cucchiai. Ecco i bicchieri, i piatti e i tovaglioli. Ecco i bicchieri, i piatti e i tovaglioli.